Salve! Benvenuti in una nuova puntata di Football 2024 Allora, aggiornamento del lunedì Io sono sveglio Sono sveglio dalle 5, sono quasi le 5 di pomeriggio Oggi non abbiamo riposato, spero di far domani pomeriggio Allora, hanno messo il run 1, Championship 2024, Barcellona Dura una settimana, entriamo Vediamo, allora, temi di usa, accetto, ovvio che accetto Allora, saluto tutti e non saluto Schema di giochiato è scaduto Wake on U la la la, u la la la, u la la la, u la 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 la, u la 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 la, segna per noi, baffanù Allora, torniamo indietro Eccolo contro controllo, schema di gioco vediamo a prendere la com la com sei tu con il manchester united se facciamo così scelta matto giochi della bonus niente giocatori base ok a tutto il bar sa sti cazzo e non c'è un cazzo di barcelona quindi mi manca uno due tre quattro due portieri due portieri e un attaccante ok non l'ho capito come come perché contro con poi sapete che mi diverte queste cose due portarci l'abbiamo di solito facciamo sto cazzo di vigore di merda di chuck castoro e che cazzo cacatu cazzo ma paladurigo 9 vabbè fotte sede andiamo qui lista giocatore no lista standard barcellona allora squadra club europa spagnolo basta ma è strano che io avevo ma io avevo il pacchetto del barcellone la testa che io non c'erò Vabbè, cimani... Blocca... Vabbè... Ma possibile... Cancelo... C'è un po' di più... C'è un po' di più... E' un po' di più... E' un po' di più... Ma sì... Un po' che ha detto... Vabbè, vanno a schiacciare... Cazzo gioca avanti... Ha neanche conto che ho... Caci tua... Ma non voglio spendere soldi a capocchio... Vabbè, questo ve lo prendiamo... Di amare... Boh, che mi dà il cazzo, però... Scusate... C'è qualcosa? C'è un po'... Eh, no... Fintro... S'qual è il cazzo... Europa... Spagna... Ma si condenisce un lì... Ah... Eh... Se rinnovo il tuo... Mi contano... Eh... Eh... Allora... Allora... Scusa... Ordina... Per posizione... Ecco qua... Quindi per la meno le avevo portiere lì... Progressi giocatore... Evita progressi... Vediamo... Posizione... Forti... Spam... No, però che... Di da 5... Non vai a chiedere... Non li posso neanche sommare... Si... Non va a chiedere... Si... Un po'... Un po'... Un po' kia... è schifo, rimane così 93, 96 che però è una merda 79 presa a portiere ma no se faccio così così eh eh ma che lottura di coglioni eh lo so ma io lo volevo di più questa visione fa? 3 le morte da mano ma sì chi se ne frega tanto vado a cazzo vede quell'arancione là raga sto sincero ma io ce l'ho giocato ma perché non me li mette scusa sono tutti in Barca forse perché vediamo allora tu casi fa trappare qui qui ok dove dovrei sono assai però non è qua ok oh però vedete è già salito l'opero non so perché mi sciomaggia vede un cazzo di raga allora sostituti 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 abbiamo allora 1 2 e 3 se faccio così ho giocato di bonus quindi ve lo peto qui rinnovo contratto diciamo 10 giorni ok poi a posto suo cerca di attaccare il microtank di che facciamo così facciamo climate e picchè qua qua così ok 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 ecco chi rimane sarà l'ortacci tuo chi ci porta un guido no guido no aspetta questo è il più forte giocatore più 2 99 mica quel più veloce vabbè e quindi e quindi non far così però troppi devo fare così 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 questo può fare un cazzo e un mancino va a fare un cazzo maialo. Preghiamo l'allergia di qual mi hai visto, mi è venuta la gara. Ok, vabbè, allora. Il resto può andare. Ok. Fatta la squadra e quindi? Ah, 2.156. Quindi per i tempi ci fa 3.000, 2.000 punti di football. A posto. E poi lo facciamo. Poi abbiamo la corda al buio. Con calma si fa. Ma non si può fare IA, giusto? Ah, pure. Che cazzata è sta cosa? Vabbè. Poi l'ho messo questo. E le abilità? Non me ne frega un cazzo. E adesso stavo? No. IA. No, io ho visto. Ho questi giorni. Io continuo fatti questi due. Quindi questo è quella del 50 monete. E sì, perché questo l'ho fatto. Ma questo è quello delle copre. A gran bene me le ho fatti un cazzo. Fino a quando mi metto i matchmaking non me ne frega niente. Ok. Ok. Vabbè. Allora. Pacchetti, pacchettini. Di regole abbiamo fatto. Il contratto. Lista giocatori. Il corno da TAP a due giorni, 5 stelle. Madonna mia che palle. Chi cazzo prende? I muri l'ho preso. Il corno da TAP a due giorni, 6 stelle. Cazzo me ne fa questo, della Cruz. Un ennesimo de bruno. C'è un corno. Vabbè. lo che esce un altro allora c'erano tutti questi si hanno messi questi qua avete già visti di tutti i dettagli ma che questo sembra molto curioso terzino difensivo con statistiche abbastanza malate ma a me non me la portano grazie parocolo gratis e chi se ne frega poi hanno messo questo e chi fosse interessato hanno aggiunto quest'altro giocatore del film in vent'anni alla gamma le forti un cazzo basta finito basta questo è tutto vediamo un po di posta qua ok beh ragazzi prendiamo la nostra squadra e ci andiamo a fare almeno stiamo giocando con la squadra che ci aveva detto uno in chat quello del minnesota però io volevo fare un cambiamento drastico voglio provare una cosa diversa ragazzi così questi in aria e questi due così no così larghi dai voglio vedere che succede e li metto contropiede sul baffè e nello e va bene là contropiede sul salà e basta e andiamo a giocare allora abbiamo fatto 9 punti in 5 partite ragazzi ce ne servono 7 in 5 partite li faremo 2.040 punti ma non vi fanno il 1.960 1.960 quanti bruciati ragazzi porca troia si stanno ammazzando di partite chissà quante le ha fatte queste con me che ha scioppato che vi ho detto a raio l'ha preso madonna mi quest'ogni pull shop puttana di una zoccola in calore va bene e maestro dov'è maestro e forse gioca poco maestro ecco qua scusami scusami ne gavi mai avevo gavi ma che figlio ha fatto e a raio pure tutti spariti vabbè forse li ho convertiti dai scusami che attacco allergico che mi è venuto ragazzi non avete idea giuseppe 1996 21 anni no 90 sì 19 anni c'è piccolo di me un pallone diverso vengono con questa i numeri madonna mia mi dimentico sempre minchia somme offensivo offensivo 1 88 85 più 6 meno 3 più 6 non lasciamo casina o è Rodri faccio tu cazzo a filizzueta ok 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 mettiamo a Torres da Messi sta bene e mettiamo a Messi contropierta là contropierta contropierta Messi giurta è partita capitano lunga ok corta lui sinistra lui destra lui rigorista lui qua lui qua lui qua lui che sta così questa dai proviamo un piccolo cambiamento eh raga c'è troppo buco tra se tocca un attacco mettendo contropiede a me non dovrebbe salire dai madonna mi raga vabbè e poi poi ce l'aveva il tiro vai va dove vai vedo nebbiato vado vado ma è sembrata una stampa ragazzo indeciso a paver e messi ieri paver ha fatto straceli vediamo se lo sorprende di nuovo e no si è buttato va 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 fuori no e raga vi avrebbe raggiunto non fa niente che sarà a 95 velocità ma mi raggiungo raga in ultimo parliamoci chiaro madonna me che attacco allergico madonna mia sti passaggi ma ne ho oh oh Ma che ha fatto? Oh! Ma che cazzo? Ma che cazzo? Che vi ho detto? Madonna di quei due! E dai, Nicola! Allora si può tramarsi! Vabbè, ma che sto vedendo? Ma veramente? E va bene che sto cercando però! Fuori giù! Però bel gole sta! Eh, l'avevo visto che la fa il gioco! L'avevo visto! No! Madonna! Mi sembra nebbia l'ha vista, ragà! Bravo, bravo, bravo! M'ha fregato! Vabbè? Vabbè? Ma perché dalla si va vevole? Vabbè! 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 E dai però Madonna mia E dai Ma guarda Ma io Raga l'ha fatta la cpu Ve lo giuro Raga Ma quando mai Raga Va bene Niente Non ripa Raga Niente Non si riparte Proprio Raga Proprio Proprio Non si riparte Proprio 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 La Perchè io poi gioco con Pernodotto Ones che cazzo splatter da la vita. Madonna me salava ne ho. E ti sei deciso ogni tanto di fare qualcosa di nuovo? Vabbè dov'è stare tolto ancora questo cazzo di... E il palo là? E il cazzo ha preso. Ah, buongiorno, boh, la murcha da tanto. Ecco, il paletto non c'era nessuno là. Guarda, tutti su stavo. Io tacca giù blu, ragazzi, tutti su stavo, incredibile. Voi me la dovete spiegare sta cosa, me la dovete spiegare sta cosa, tacca giù. Vabbè, ancora. Ma ce l'attacca giù. Ma dove stanno, uh? Un pezzo di me, da come mi sta facendo i falli. Un pezzo di me, da come mi sta facendo i falli. Un pezzo di me, da come mi sta facendo i falli. Non era lui, voglio, ma come cazzo si fa, uh. Ma perché tutti di testa? Non l'ho capito. Ma che culo di merda. Una merda questo, è morto già. Le muette dalle, non ce l'ho capito. Ti sfido. Ti sfido. Madonna mia. Vabbè. Poi voglio dire, spiegare sta cosa. Pezzo di merda, ma mio. Sto pezzo di merda. Ovviamente non mi fa continuare, deviamo unirlo però. Dune deviamo unirlo. L'hanno uniti. Ma vai, guarda quanti ne ha messo. Vabbè. È morto. Stiamo lui. Mi ha seguito, possiamo lasciarlo. Ma vai, guarda quanti ne. Vabbè. come on to replace him is number 8 vado 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 stocke a cinema ma stocke a cinema one you madonna me she go la fat bellingham madonna me she go la fat bellingham keep this rap bc to fango kickoff the moot to do what they do to not love my don't go la fat bellingham pezzo di merda triste e falloso raga del 96 ti sfido la bacchina d'amante ti sfido tra mano stigliati lungo tutto tra mano ti sfido a fare i fallo ti sfido no lo schermetto che mi piace devo sistemare di nuovo io non riesco a ripartire raga incredibile non riesco a ripartire incredibile due campi ecco io quando faccio il coglione bello go lascia dai dai ops finita che peccato che peccato ho vinto che peccato uso massacra 13 tiri da raga stramerità da raga da raga exhibition e 2 allora sistemiamo un po' così ok un po' così e un po' così ti lava la no che sonno che ho no tre tre tocco che cazzo fai raga tre punti su set li ho presi ma vediamo qua la situation no i numeri no i numeri madonna miei numeri ragazzi però stavano tutti bene mettiamo back a me si sta bene quindi partiamo così ok sì no 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 Alla prossima. Hello everybody and welcome to today's match. Dove cazzo vai? Ma perchè Baffè se ne va a capocchia? Ma guarda... Ok, questo ha fatto i cazzo i suoi. Che sta facendo questo? Ma dove cazzo? Madonna Miraga. No, fraccasso. Madonna Miraga. Oh, come non è fallo là? Ma dove cazzo va sto David? Niente. Niente. Se ne va per i cazzi i suoi. Vabbè. Dice che esiste un tiro da lontano bugato. Come cazzo si fa non lo so. Per me è troppo difficile. Vabbè. No. 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 Bello. Ma perchè? No. Ma che lagato. No. Ma che lagato. No. Vabbè. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ma che falle raga, penso di stare a giocare bene con la squadra da merda, non bustati e le chiacchiere. No, 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 no. Sono onesto. No, 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 no con 93 velocità boom è classico 1-2 al cazzo che devo prendere io santo sto di prendere il cazzo se chiami si va il leone bianco ma che cazzo c'ha in porta questo oh mi hai rotti i coglioni oh ma che ho fatto ma che cazzo ho fatto così si va vabbè ci avete capito qualcosa voi là? io no ah mi ha freccato ma io mi ha freccato mi ha freccato mi ha freccato mi ha freccato ma guarda che devo andare a prendere ma guarda butta sta cazzo di pala 2 minuti di recupero siamo arrivati al quarto mamma mia che schifo mamma mia che schifo mamma mia come sto oh oh ragazzi è troppo poco ragazzi è troppo poco oh oh ah sii sii bobo senza il presentazionale affangulo sistemiamo questo schema di gioco e si va si va calma tacca giù viate a corsare che farlo ma che credi i rigori dai pure ma questo è già munito a cover the caps aia ma io vado a fare la doccia va no sa mai mi ha fregato mi ha fregato mi ha fregato mai posizionarsi così in difesa ragazzi mi ha fregato ho sbagliato io mi ha fregato non devo giocare a uomo l'ho sbagliato io ho sbagliato io è giusto è giusto è giusto ho sbagliato io ho fatto un errore proprio elementare ragazzi e perché si è bloccato scusi la muetta da tante da mamma ehi accetti di rincazzare certo ma magnano in bordo ma vai a kagare ma vai a kagare che fallo è minchione vabbè va bene konami va bene va bene va bene stai decidendo tu la sorta di questa partita guardate che laggata guardate 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 ma che che ha combinato questo guardate 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 mi sto allenando su queste cose ragazzi doppio scatto e tiro 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 ragazzi il video non lo finirò di registrarlo quindi lo blocco e ci vediamo nel prossimo video grazie grazie Grazie.